Questa mattina si parla di territorio, si parla di mobilità, si parla di politica, tutto questo lo si può fare grazie a un consigliere municipale che è qui con noi, che è Davide Borghi. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno a chi ci segue e appunto a chi ci vede anche. Buongiorno Davide, consigliere municipale del Municipio 4, giusto? Sì. Il Municipio 4, ricordiamo così velocemente qual è il Municipio 4? Allora, il Municipio 4 è, parliamo di quartieri per essere appunto più chiari, Forlanini, Porta Vittoria, Porta Romana, Rogoredo, Santa Giulia, Corvetto, più o meno li ho citati tutti ecco. Perfetto, abbiamo capito dove siamo ubicati, diciamo che tu sei molto preso dal tema della mobilità e questa è una giornata perfetta oggi, tu anzi sei arrivato con i mezzi, com'è la situazione là fuori in questo momento? No, non c'è nessuna, la folla non è ancora in delirio, mettiamola così, sì ho preso la metropolitana per arrivare qua. Per adesso tutto a posto, vediamo, fra mezz'ora più o meno le 8.45 poi dovrebbero finire le facce di garanzia per alcune linee metropolitane e vedremo che cosa succederà. Tema della mobilità che a Milano insomma è fondamentale, anche il fatto che comunque ormai ci sia uno sciopero praticamente ogni 15 giorni fa capire che insomma il tema è molto caldo. Sì, fa capire come ci sia la necessità di avere stipendi più e più alti. Io credo che sopravvivere, non vivere, sopravvivere a Milano con 1.500 euro al mese non è possibile, non è possibile non perché lo dico io ma perché se un affitto per un trilocale costa 1.200, 1.300 euro, capite bene come fa una persona che magari ha famiglia ma magari anche non ce l'ha, a solo pensare di sopravvivere e anche uscendo dalla città noi ci rendiamo conto e lo sappiamo sempre di più di come città come Sesto San Giovanni, Segrat, città nell'Interland, abbiano visto un lievitare di prezzi, delle affitti e delle vendite delle case legato al fatto che arriva la metropolitana o semplicemente io direi più banalmente per una speculazione che è senza precedenti. Sì perché poi c'è quella cosa di no, arriva la metropolitana, vedrai adesso casa tua, avrà un valore pazzesco. Sì ma poi dopo se io voglio prendere a casa sarà un problema comunque lo stesso perché tutte le case poi hanno un valore pazzesco, quindi questa cosa di tutti contenti perché il valore delle case aumenta, adesso leggevo se un possibile prolungamento della M1 verso Quartirol mi bisceglie, dopo bisceglie, potrebbe avere un aumento del 10% e ho capito ma vuol dire che neanche maggio che l'ultimo baluardo delle case ha un prezzo più o meno ragionevole si perde anche quello. Sì senza contare appunto diciamo che già i prezzi lievitano di per sé perché vuoi inflazione, vuoi un aumento progressivo nel corso degli anni che è diventato esponenziale e invivibile e quindi lo sciopero diventa l'unico modo che hanno i lavoratori per lavorare. Perché questo è il tema, ma non c'è un altro modo, è possibile che poi, perché poi lo sappiamo no, il milanese medio e mi ci metto a volte anche io, mi chiedo scusa, è ma è possibile, io però devo andare lì e mi devono rompere le scate con sto sciopero. Lo sciopero purtroppo ricade chiaramente sugli utenti, lo sappiamo molto bene, il problema è che secondo me bisognerebbe effettivamente, noi proviamo a farlo quotidianamente in municipio, provare la famosa frase famigerata a volte sedersi a un tavolo, no? Io credo che veramente la collaborazione, il lavoro in questo caso tra la TM, i sindacati, le parti sociali, i lavoratori, possa dare frutti. Poi purtroppo in questo momento non si trova una quadra. Chiarissimo, allora adesso appunto andiamo con un po' di musica ma poi continuiamo a parlare con Davide Borghi, continuiamo a parlare appunto di mobilità ma non solo perché poi i temi sul municipio 4 sono tanti. E poi sai Davide, se tu vai a casa senza rispondere a certe domande e qui poi la gente mi scrive Ah ma non gli hai chiesto quella cosa? E quindi dirò direttamente a te quali sono i temi caldi, fra pochissimo. Zucchero con Baila Morena, le 8 e 18 minuti qui su Cristal Radio, Good Morning Milano, Davide Borghi, municipio 4, consigliere del municipio 4, i municipi, quanto ci piacciono i municipi di Good Morning Milano, lo sanno benissimo, sia i municipi che quelli del comune centrale, infatti abbiamo sempre qua quelli del municipio, pochi quelli del comune, non vengono contenti quando vengono qua, comunque no non è vero, abbiamo anche i consiglieri comunali che vengono dai, ci piace, ci piace dare spazio alla politica perché la politica fatta come la fate voi e lo dico anche a prescindere dal colore con cui la fate, ecco la politica che insomma serve a noi cittadini perché è la politica di prossimità. E infatti quando parliamo di mobilità, adesso abbiamo parlato dei grandi temi della mobilità appunto che magari un municipio poi più di tanto non può fare in quel tema, cioè sugli stipendi di ATM non credo che si possa mettere in un municipio a fare molto, ma può fare altre iniziative per un municipio o può proporre altre soluzioni ad esempio. So che ieri, quando è che è stato il consiglio municipale ieri? Sì, questa sera c'è stato un attimo di... Sì, noi abbiamo presentato, allora anzitutto il municipio no, non può fare in modo che gli stipendi delle dipendenti ATM crescano, no, ma anche perché poi lì c'è tutto un tema che avendo stipendi che sono spesso simili tra l'anno del sud del paese, come fa uno a mettere su famiglia se il costo della vita a Milano non è quello di Reggio ad esempio o di qualche altro posto nel centro e nel sud. Ieri noi abbiamo presentato due documenti nell'ottica di occuparci di temi piccoli, perché il municipio fa questo, i due documenti erano per la messa in sicurezza di due vie. che non è il primo documento che proponiamo. Che direi dopo quello che è successo in Viale Bodio all'inizio settimana con l'inferimento appunto di un vigile che stava facendo servizio davanti a una scuola tirato sotto la macchia, insomma forse è un tema interessante. Oggi guarda, colgo l'occasione perché è una commemorazione che penso sia doveroso fare. Oggi alle 15.30 in Viale Argonne viene ricordato Luca Marengoni che è quel ragazzo di 14 anni, se non sbaglio 15, che è morto appunto investito da un tram. E allora ti rubo un secondo, perché proprio su questo è uscita una notizia appunto ieri vado alla legge della Repubblica Milano che dice oltre 100 alberi per la città in regalo a Milano della famiglia appunto di Luca Marangoni a due anni dalla scomparsa del giovane. Il progetto realizzato dai familiari con legambiente prevede la messa a dimora di piante al posto di quelle abbattute dal maltempo della scorsa estate appunto. E proprio oggi si inizia in Viale Argonne con la piantumazione. Sì, alle 15.30 appunto ci sarà Municipio 3, ci saremo noi, ci sarà la famiglia di Luca e penso è un momento molto importante per ricordarci che intanto tutti dobbiamo avere la possibilità di muoverci non solo con l'auto ma anche con altri mezzi e poi fare in modo che quella tragedia appunto non vada a spreco cioè diciamo che la tragedia non sia inutile se si può trovare un'utilità appunto una tragedia del genere diciamo non sia stata vana o un sacrificio come si dice in questi casi che ahimè non è neanche l'unica poi Luca purtroppo la tragedia vuole che sia in Viettito Livio quindi era vicino, tra l'altro ho frequentato proprio il Biennial a Lines ho ben presente quella strada che ho sempre percorso spesso in bici e quindi appunto Cosa è successo a punto di vista? Che cosa le state proposte? Com'è stata la risposta? Sì, sono due documenti appunto uno su Via Cavriana che è quella via che da Via Le Forlanini porta diciamo verso il Saini quindi verso il centro sportivo Saini che è una via originariamente agricola che adesso viene percorsa a velocità sostenute perché si può, perché non ci sono dissuosori di velocità ed è un problema per tutti coloro che insistono su quella strada quindi da, penso a Cascin, penso a Un Vivaio penso a Di Martini, penso a tante realtà una realtà sportiva, un centro sportivo di tennis e quindi noi chiediamo, abbiamo chiesto un rallentamento su quella via e un percorso che parta dalla cittadinanza perché Cascin poi si è offerto e lo faremo lì da loro per capire come iniziare a fare un intervento leggero perché sappiamo che i tempi di realizzazione sono molto, molto lunghi il secondo documento invece è su Via Cena e riguarda la messa in sicurezza sempre tanto del tratto, del secondo tratto quello che va dalla rotonda all'incrocio con Via Cervignano fino a Via Le Umbria perché è un tratto, soprattutto quello vicino al supermercato che è estremamente pericoloso perché molte auto parcheggiano a divieto di sosta quindi un'intensificazione del controllo da parte della polizia locale e poi noi abbiamo chiesto, la proposta che abbiamo fatto è avendo perso molti posti auto per il parcheggio di Beik Biblioteca Europea di Informazione e Cultura per chi non lo sapesse abbiamo chiesto di recuperare qualche posto nel primo tratto di Via Cena ma c'è stata qualche contestazione da parte della minoranza io non sono solito parlare di questo perché penso sia un argomento abbastanza stucchevoli soprattutto per chi pensa che la politica non sia il contro ma il per qualcuno però ecco, quando mi è stato chiesto se avessimo consultato i ragazzi, la scuola anzitutto l'amministrazione ha il dovere di prendere delle scelte che a volte possono essere impopolari ma che vanno prese ma poi soprattutto non c'è nessun ragazzo nessuna ragazza secondo me che sarebbe contro stile ad avere delle auto parcheggiate quindi non individuo di sosta non so se è una provocazione però mi fa abbastanza sorridere che si cerchi sempre in maniera ideologica quello che ho portato a dire ieri di parlare di mobilità non si parla di chi poi effettivamente vive la città anche perché in quel quadrilatero abbiamo appunto una scuola, c'è l'esse lunga c'è un bel po' di movimento c'è un asilo, c'è una media c'è un bel po' di movimento che giustamente deve avere il diritto di potersi muovere ovunque e chiunque muoversi nella migliore delle maniere però bisogna fare in modo che appunto ci si possa muovere senza andare a avere problemi cioè il problema è che a Milano poi spesso in te vedo che questo cioè i flussi quando si incontrano hanno problemi forse quando si riescono a tenere più separati possibili meglio è a questo punto a me verrebbe da dire che noi facciamo ancora fatica a pensare che scusatemi a pensare che questo non so se si può che questa sia la chiave nel senso che me lo regalò mio nonno quando avevo 12 anni non ho più smesso è un abbonamento che rinnovo tutti gli anni quindi noi dovremmo iniziare a pensare che per i costi che hanno gli abbonamenti ATM per i 60 milioni che il Comune di Milano investe sul welfare del trasporto pubblico per tutte quelle categorie persone disoccupate persone con disabilità e tante altre under 27 over 65 ecco con un investimento del genere nonostante l'inflazione un prezzo di 200 euro fisso da 10 anni e anche per le altre categorie ecco quando mi si viene a dire il massimo che sia sono 350 euro 330 e quando mi si viene a dire hanno aumentato il biglietto il biglietto è per non gli abitudinari come noi che prendiamo i mezzi ma per gli occasionali quindi dovremmo iniziare a pensare che il trasporto pubblico è una risorsa e non lo sposta poveri nonostante sì sì chiaro ma soprattutto poi c'è questo tema del pensare magari all'abbonamento dei mezzi è una cosa che io cerco ogni tanto di fare io ad esempio non ce l'ho ma sbaglio lo so anch'io farlo diventare come un servizio necessario per vivere in una città cioè ho fatto abbonamenti in palestra che ho usato molto meno e che sono costati di più c'era la provocazione di un nostro consigliere che appunto diceva il partito democratico diceva secondo me chi viene ad abitare a Milano deve avere deve essere costretto ad avere l'abbonamento chiaramente è una provocazione però l'idea è ad ATM ogni anno mancano diversi milioni di euro perché appunto non riescono a colmare il divario tra quello che arriva dai biglietti e i fondi sempre minori nonostante l'aumento dei chilometri di vettura che arrivano da regione e stato quindi perché non provare a pensare a una soluzione del genere beh allora pensiamoci magari adesso c'è un po' di spausa perché c'è la pubblicità se volete trovare una soluzione noi siamo qua 331 7853555 ma torniamo subito dopo la pubblicità appunto parlando ancora con Davide Borghi di municipio 4 ma non solo la città è grande e la città i consigli municipali la conoscono tutta non solo il loro municipio e non solo il proprio municipio ma tutta la città la conoscono perché il territorio è quello Icoma Cose con Malavita alle 8 e 33 minuti ben ritornati qui su Crystal Radio Good Morning Milano Crystal Radio che vi ricordo che domani 9 novembre sarà in onda tutto il giorno perché sì con 40 anni di Crystal Radio 35 anni di associazione di associazione di amici di Crystal Radio di Milano scusate e quindi domani staffetta radiofonica maratona radiofonica in staffetta dalle 8 del mattino fino a sera siamo in tanti tantissimi ci sarò anch'io durante la giornata quindi ascoltateci che prima o poi sentirete anche me insieme alla io sarò in tandem con Ambrogio Curti quindi aspettatele le belle ma quelli bravi vengono prima e dopo di noi ciao Ambrogio e ciao anche ad Alberto che ci sta ascoltando torniamo qui invece con Davide Borghi municipio 4 allora come faccio adesso a farti tornare in municipio senza che i tuoi cittadini mi dicono però non gli hai fatto parlare di quella roba lì perché tu gli vuoi bene a Davide Borghi non gli vuoi fare le domande complicate allora io faccio una cosa peggio tu in coscienza di che cosa secondo te i cittadini vogliono che io ti chieda domande scomode che secondo te i tuoi cittadini ti farebbero così vediamo se ha la intellettualmente sincero va bene mi tiro questa zappa sui piedi bravo ormai è diventata una soppopera tragicamente ma è il tema della 73 ancora no pensavo fosse finita è peggio vari mezzi del TPL la media fa 73 diciamo sì arrotondare per difetto allora anche qui la questione noi dovremmo risolvere il problema che si è creato quindi avere la linea chi a questo punto da Linate arriverà fino a piazza Sant'Amane del suffragio se io non voglio dare tempi perché la politica soprattutto municipale è sempre dare i tempi però quello che auspico è che per la fine dell'anno quel mezzo ci sia l'altra io vorrei fare una considerazione che penso sia molto importante noi non ci rendiamo conto ieri anche l'assessora alla mobilità nostra lo sottolineava di quanto anche un chilometro di mezzi pubblici in più cambi la prospettiva di quanti milioni servono ma perché perché ad esempio in una giornata servono otto autisti per garantire il servizio su un mezzo pubblico perché chiaramente turni straordinari scioperi e quant'altro e quindi noi parliamo di milioni e milioni di euro non dobbiamo correre il rischio e lo dico lo dico pensando a me prima di iniziare a fare politica di banalizzare banalizzare la politica banalizzare il ruolo di chi fa politica è un problema proprio per le persone perché negli anni noi abbiamo abbiamo fatto veramente tanta fatica a pensare e lo facciamo tuttora a pensare che chi fa politica abbia un lavoro sia un mestiere perché facciamo fatica a vedere quello che di concreto le persone fanno cioè se tu hai un idraulico che ti deve venire a casa a mettere a posto un tubo e tu gli paghi l'uscita ma il tubo non te lo mette a posto tendenzialmente non lo paghi e dico non è stato buono a fare il suo lavoro esatto il meccanismo simile con la politica avviene attraverso il voto tu mi ti rievi la 73 non sei un buon politico il concetto è quello esattamente il ragionamento è quello però chiaramente per mettere a posto un tubo ci sono dei problemi c'è l'acqua che non arriva c'è una chiusura ecco a volte noi facciamo più fatica a capire le difficoltà che ci sono nella macchina amministrativa piuttosto che quelle di mettere a posto un tubo secondo me un tubo nel tubo e quindi quello che mi sento di dire a chi ci ascolta è non banalizzare non banalizzare il lavoro che viene fatto sia perché a livello municipale veramente c'è la massima disponibilità noi siamo molto nonostante poi ci siano dei confronti ma il dibattito è parte della politica ma la vedazione si trova sempre penso a ieri noi abbiamo accettato tre emendamenti su cinque gli altri due erano un po' ideologici li abbiamo rifiutati però c'è massima collaborazione perché poi c'è un'idea chiaramente di politica però siccome l'ideologia non c'è più e rimane l'idea sarebbe importante se effettivamente noi iniziassimo a pensare che la politica è un lavoro ma quindi fammi capire la 73 non tornerà quella di una volta sicuramente però si riuscirà un attimino a mitigare queste nuove modifiche è stato un lavoro portato avanti il consiglio comunale dal capogruppo che giustamente ha detto voi fate le mozioni all'opposizione ci mettiamo i soldi perché poi era un emendamento al bilancio quindi un milione di euro messi su quello e non su tante altre cose e quindi si arriverà perché questo scherzetto diciamoci costa un milione di euro questo prolungamento più o meno questo prolungamento della linea poi noi sappiamo benissimo che il bilancio mi pare sia di 3 miliardi del comune di Milano e sappiamo però forse molti non lo sanno che il comune ha mi pare 40 miliardi di debito che piano piano risana con un piano di rientro che appunto viene ogni anno presentato con una riduzione per fortuna dall'assessore al bilancio del comune di Milano ma poi quando mi si viene a dire uno dei death motive delle persone è ma io pago le tasse io devo avere è vero è verissimo è verissimo però noi dovremmo avere più cura della cosa pubblica perché di tutti non pensare siccome è di tutti allora me ne frego sai quante foto noi mandiamo di segnalazioni che ci vengono fatte per cartace e lasciate in giro allora noi dobbiamo iniziare a pensare secondo me che se il bene è pubblico vuol dire che è anche mio e quindi lo tratto ancora meglio magari di come tratterei il mio bene privato perché lo usa un altro perché quel pezzo di strada lo percorre anche qualcun altro ad esempio chiarissimo chiarissimo insomma il bene comune è di quei temi davvero complicati e che però bisogna fare in modo che la gente ci sia passione quindi insomma so che la politica soprattutto municipale soprattutto territoriale spesso mentre fa qualcosa anche in questa direzione andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo ancora qui però Davide perché ci sono tanti altri i temi da affrontare e the bomb the bucket heads qui alle 8 e 42 minuti su Crystal Radio Good Morning Milano parlavamo di mobilità parlavamo anche di cose scomode e allora ti dico caro Davide Borghi consigliere municipale del municipio 4 usciamo dal municipio visto che tu vuoi avere una visione giustamente perché poi i municipi sono lì ma poi devono avere una visione su tutta la città perché poi non è che i confini non c'è più i muri quindi insomma anzi ormai non è neanche più comune di Milano è forse città metropolitana forse anzi ancora più regione se non comparto Nord Italia mi vorrebbe da dire il tema della mobilità per molti è anche Trenord le ferrovie le ferrovie Nord è la mobilità appunto dall'esterno della città ad entrare in città e viceversa è il fatto però che la politica possa dire un po' su questa cosa ci marcia dall'una o dall'altra parte nel senso che noi siamo un po' stufi di sentir sempre dire e anche stesso tema sulle case popolari ma adesso parliamo di mobilità e ma no quella roba lì è colpa di regione perché è Trenord e no quella roba lì è colpa del comune perché è MM perché è ATM cioè ecco allora si può riuscire a capire come potremmo trovare una soluzione ad esempio al grande bubone che c'è su Trenord senza dare la colpa sempre solo a me non è mia colpa a me è colpa tua la politica del contro ha stufato penso sia sotto gli occhi di tutti perché perché sono dalla caduta della prima repubblica quindi da mani pulite che c'è un continuo rimpallo sulla tema poi di Trenord il problema non è tanto e lo dico con la consapevolezza che in realtà ce ne sono tantissime soppressioni non è tanto dalla città metropolitana quindi dalle città della città metropolitana a Milano o viceversa ma è tra le città della città metropolitana cioè in tutte quelle città i casi purtroppo più difficili possono essere Legnano ad esempio o Paraviago non me ne vogliono chi abita lì ma c'è una difficoltà estrema di spostarsi da una città all'altra e questo è legato al fatto che negli ultimi 30 anni l'amministrazione che governa la regione Lombardia è la stessa ma questo non significherebbe nulla perché anche in Germania Merkel ha governato 15 anni ma il tema è come si gestisce poi il trasporto pubblico se i treni rimangono più o meno sempre pressoché quelli se non c'è un rinnovo proprio del comparto come è stato fatto ad esempio in Emilia Romagna non perché governassimo noi ma perché si è deciso di partecipare a un bando e cogliere l'occasione di un bando europeo per il rinnovo del trasporto pubblico su rotaia e quindi se noi vogliamo affrontare il tema in maniera seria dobbiamo dire innanzitutto che noi abbiamo un problema nel senso che mi pare il 50% delle tratte di trasporto ferroviario in Lombardia sono a binario unico se non ricordo male e quindi questo è un dato di fatto bisogna partire dal presupposto che la sovrastruttura che si è creata attorno alle stazioni cioè le città le persone gli edifici ha creato inevitabilmente problemi alla realizzazione di nuove tratte ferroviarie e però dobbiamo anche dirci che non è accettabile utilizzare treni sporchi non sicuri soprattutto da chi ha fatto della sicurezza una bandiera con la mia consapevolezza che la sicurezza è un tema trasversale in più c'è anche quella cosa della paura indotta viene da dire del oddio non so se poi arriva a tempo col treno ma lo prendo non lo prendo ma poi arrivo tardi che poi ti porta a usare la macchina magari e quindi poi c'è tutto il tema della congestione PM10 oggi perché poi area B diventa il problema e quindi si manifesta contro area B ma non tanto se le persone potessero entrare a Milano poi mi dirò a chi ci ascolta ma se un cittadino una cittadina che abita ad esempio che ne so a Lignano ma Parabia come l'ho citato prima potrei dire Gessate potrei dire Gorgonzola venisse a Milano con dei mezzi che non sono in ritardo ogni 3x2 non rischia se ho tantissimi fra quanto l'università ho tantissimi compagni e compagni che vengono a Milano prendendo i mezzi pubblici e non sanno se riusciranno a dare l'esame se parteciperanno alla sessione all'appello d'esame perché non sanno se arriveranno in orario è spaventoso perché poi se lo mettiamo invece su lavoratrici e lavoratori questo vuol dire chiedere straordinari chiedere permessi magari a volte non retribuiti perché perché Trenord non funziona non funziona ed è sotto gli occhi di tutti e di tutti da tantissimo tempo e questo mi porta a dire che probabilmente un rinnovamento di chi governa Regione Lombardia poi vedremo se ci sarà la possibilità a questo punto con il prossimo mandato nel 2028 se un cambio sia auspicabile per effettivamente cambiare le cose qua non è più un tema di destra e sinistra per me ripeto è molto molto stucchevole è un tema di idee qua le idee non ci sono qua non c'è proposta politica qua non c'è volontà di andare incontro alle persone bene allora 8 e 47 minuti da 2 minuti è scaduta la fascia di garanzia anche per le metropolitane 1, 2, 3, 4 e 5 in questo momento l'unica linea garantita è da San Babila a Forlanini allenate per la M4 al momento ATM non ha ancora dato però nessun dato quindi adesso rimaniamo un po' qui con gli occhi sul sito e sulle comunicazioni di ATM nel frattempo un po' di musica e poi torniamo qui ancora con Davide Borghi del Municipio 4 Giorgia Giorgia niente di male Giorgia che ieri sera avete visto sicuramente la conduzione di X Factor non ditemi come è finita perché non ho visto la puntata quindi non so che è uscito non ditemelo per favore ok poi infatti non sto guardando niente su Instagram per quel motivo segui X Factor Davide? in realtà no io non l'ho visto ero in municipio ma tu sei più uno che segue sport giusto? si beh pratico sport ma è tanti anni tu pratichi pallanuoto giusto? dove 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 non pratico ancora oppure adesso no adesso so che stai studiando vado avanti ho giocato al Cus Milano diversi anni da quando ero in seconda media poi sono passato a pallanuoto Milano che è veramente un bellissimo progetto che ha messo in piedi dei miei ex compagni e adesso gioco alla Coppa Arma e appunto continuo continuo come sta andando? bene ho iniziato due giorni fa campionato iniziato? è a gennaio la serie cinza gennaio la serie D a marzo devo capire ancora più probabilmente giocherò per la D però vediamo insomma anche sportivo ecco questo che succede appunto con i nostri consiglieri municipali prossimi appuntamenti del municipio che sono da non perdere qualcosa? beh a me viene in mente diciamo se vogliamo parlare di grandi opere noi abbiamo l'ex macello quindi tutto diciamo un'area enorme che va diciamo tra la nuova biblioteca di Calvairate e l'ortomercato che piano piano va avanti vanno avanti i lavori soprattutto adesso sulla Vicuni quello che è la parte che va su che dà su Via Lombroso e quello è un intervento importantissimo di rigenerazione urbana che appunto porterà porterà lì lo IED porterà lì veramente un quartiere nuovo e diverso e più bello e abbiamo BEIC che continuano a portare avanti che è appunto quella biblioteca di cui parlavamo prima per cui poi è stata chiusa anche Via Monte Ortigara e il controviario di Viale Molise i lavori vanno avanti dovrebbero concludersi per le Olimpiadi invernali del 2027 insomma tanti tanti temi appunto che sono aperti sul municipio Davide siamo arrivati alla fine devo ringraziarti e salutarti grazie a te grazie a chi ci ha seguito da casa dacci le tue coordinate per seguirci per seguirti scusa dunque mi trovate beh la mia la mia email è davide.borghi1 chiocciolacomune punto milano punto it e poi c'è un altro Davide Borghi per quello punto beh sì sì immagino di sì e poi mi trovate in realtà non ho mai avuto Facebook quindi non mi trovate lì però su Instagram esatto dborghi underscore m4 ho aperto da poco un profilo solo dedicato al municipio perché mi piacerebbe attenzione perché non è un fan della metropolitana 4 ma è per municipio 4 esatto però sì la metropolitana 4 la prendo però ti piace non so se oggi appunto potrò vedremo vedremo adesso infatti pochi fra pochissimo l'ultimo aggiornamento sulla sigla vi diamo gli ultimi aggiornamenti da ATM per sapere appunto come va la situazione in questo momento le metropolitane sono ancora regolari così dice allora torno a casa non è vero dopo la quattro 5 chiudono m1 m2 m3 ed m5 tra tre torri san sirio è chiusa aperta m4 invece tutta la linea useremo lo sharing però la m5 al momento è aperta da tre torri in là ovunque invece m1 m2 ed m3 chiuse tutte quante ciao Davide grazie mille grazie a voi